Grazie alla radio di Marconi, c'è meno disoccupazione, grazie alla radio di Marconi, si comunica fra tutte le nazioni. Ciao a tutti, mi chiamo Rosa Maria Bassi, per molti anni ho lavorato presso una radio di Roma, che si chiamava Romantica, da un anno circa non ci lavoro più, però mi è rimasta la grande passione per la comunicazione e la radio. Ed è per questo che due anni fa ho avuto modo di presentare un progetto e proporre questo progetto per le scuole, la radio nel tempo da Marconi a Fiorello. Ho fatto un esperimento pilota presso una prima e seconda media della scuola Piranesi, a cui hanno partecipato con enorme interesse i ragazzi della seconda classe e anche i loro insegnanti, per cui gli ho fatto ascoltare le voci di personaggi celebri, compresa quella di Guglielmo Marconi. I ragazzi sono stati molto entusiasti e il fine di questa iniziativa, appunto presentata dalla mia associazione culturale, il Salotto di Romantica, è stata quella di avvicinare gli studenti al mondo della comunicazione, per far capire loro quanto è importante l'uso degli strumenti di comunicazione, con i quali ogni giorno magari si confrontano e magari ne usufriscono in maniera passiva. Ad esempio possiamo dire grazie a Guglielmo Marconi, adesso possiamo comunicare con i telefonini e magari mandare foto, mandare email attraverso il mondo, attraverso il continente, con un mezzo tecnologico come Internet, arrivare dall'altra parte del mondo. Ed è per questo che ho deciso di divulgare questo progetto, la radio nel tempo da Marconi a Fiorello, per far avvicinare gli studenti e i ragazzi a studiare questo progetto, insomma con curiosità e spero con passione, come ce ne ho messa tanta io. Gli obiettivi praticamente di questo progetto quali sono? Divulgare come è nata la radio, il suo impatto nella società fino ai giorni nostri, e sperimentare con gli studenti la nascita di un programma radiofonico. Infatti è accaduto che quando sono andata in questa scuola, ai ragazzi li ho fatto vedere con le diapositive, come sto facendo vedere adesso a voi, la storia un po' da Marconi a Fiorello, e poi li ho fatti sperimentare in prima persona con le apparecchiature, abbiamo simulato un programma radiofonico, una parte dei ragazzi hanno fatto la parte dei protagonisti da quest'altra parte, come un po' il salotto di Costanzo, per cui con i microfoni rispondevano alle domande degli altri che stavano seduti e partecipavano alzando la mano e facendo, diciamo, un po' la simulazione della telefonata da casa. I ragazzi veramente è stata un'esperienza grandiosa perché si sono divertiti tantissimo, hanno saputo chi era con gli Elmo Marconi, perché purtroppo magari non molti lo sapevano, su 60 solo 3 sapevano chi era con gli Elmo Marconi. La mia grande soddisfazione è stata quella di poter intervistare, che vi farò vedere dopo, la figlia di Guglielmo Marconi, Elettra Marconi, che è stata contentissima di partecipare a questa iniziativa e ho mandato anche un saluto ai ragazzi, proprio per far sapere quello che faceva il padre. Per cui abbiamo detto, divulgare come è nata la radio, il suo impatto nella società fino ai giorni nostri, e sperimentare con gli studenti la nascita del programma radiofonico. Abbiamo percorso insieme la storia della radio e i protagonisti che ne hanno preso parte nel tempo, naturalmente io ne ho citati alcuni, ma ce ne sarebbero stati molti di più, ma altrimenti invece di 35 diapositive ne sarebbero state molte di più. Hanno partecipato gli studenti in prima persona, per cui alla realizzazione della trasmissione radiofonica, utilizzando i mezzi che gli ho portato io a disposizione. Con gli aspetti tecnici abbiamo avuto internet, il computer, un mix, amplificatori, casse acustiche e microfoni. Insieme abbiamo fatto il programma, storia della radio, la parte sperimentale, e poi c'è stato un dibattito conclusivo con i ragazzi, e hanno detto loro parere anche le insegnanti, che sono state entusiaste anche loro, perché per tre ore diciamo che abbiamo tenuto i ragazzi buoni e lì in silenzio a fare domande e a partecipare.